Quindi, comportatevi da signi di Dio, comportatevi in maniera degna della vostra vocazione, che è essere come Cristo, essere in Cristo, per vivere pienamente di Lui. Secondo il Vito, andate e proclamate il Vangelo. Questa dire che il Vangelo si conclude così, bisogna dirlo, ridirlo, riannuziarlo, dentro la storia, che così è arrivato fino a noi. Allora essi partirono e predicavano dappertutto, mentre il Signore agiva. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.